ciao bentornati sul canale dei licheni in questo video vedremo come riprendere le maglie sul lato della lavorazione su una cimosa ovivagno lavorati a maglia rasata ecco che ho preparato un campione il lato da cui andremo a riprendere le maglie è questo quindi ho lavorato iniziato il campione qua sono andata a salire qua l'ho chiuso questo lato su questo lato lavorato un vivagno a maglia rasata ossia un vivagno in cui ho lavorato tutte le maglie sia all'ultima che la prima girando il lavoro con lo stesso punto con cui ho lavorato la parte che stavo lavorando cioè da questo lato l'ultima maglia l'ho lavorata sempre a diritto e da questo lato la prima maglia l'ho lavorata sempre a rovescio si è formato un vivagno che ha queste sembianze che a questi come dei nodini che sono poi tipo delle maglie ritorte alternati a delle maglie invece più a catena quindi una maglia ritorta alternata a questa maglia molto aperta noi quindi andremo a riprendere un numero di maglie pari alla metà dei ferri che io ho lavorato e vedremo diversi modi per riprendere queste maglie modo tale da ampliare verso sinistra il mio lavoro cambiando la direzione di lavorazione vediamo innanzitutto come si riprendono le maglie con l'uncinetto che forse la modalità più facile per iniziare io quindi o il mio incine uncinetto e le maglie che dovrò riprendere saranno queste qua più chiuse perché se io riprendo quelle nel mezzo si aprirebbe troppo il lavoro invece riprendendo queste ritorte rimangono comunque più chiuse io comincio da questa per per dare un bel bordo per dare una bella ripresa quindi inserisco il mio uncinetto prendo il filo che voglio lavorare e lo porto fuori poi ho con me il mio ferro inserisco la prima maglia sul ferro poi cerco di tenere tutto insieme mi rivolto bene il bordo in modo tale che si vedano bene le maglie inserisco l'uncinetto nella maglia ritorta prendo il filo tiro fuori la maglia la maglia verrà fuori un po storta quindi io devo ruotarla per posizionarla correttamente sul ferro in modo tale che diciamo la gamba destra sia rivolta verso di me e la sinistra verso l'esterno l'altra maglia ritorta infilo l'uncinetto ed estraggo la maglia la ruoto e la inserisco sul ferro a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ora lo stesso procedimento si può fare anche senza uncinetto. Quindi abbiamo la nostra cimosa e noi semplicemente possiamo inserire il ferro nelle maglie prescelte, quindi sempre le ritorte, e lavorare quindi in due passaggi. Quindi qua riprendo propriamente le maglie. Così ho ripreso le maglie del mio campione. Ora però devo inserire il filo della lavorazione e quindi non faccio altro che lavorare queste maglie a diritto con il nuovo filo. Ecco che sono di nuovo nella posizione in cui ero prima con il metodo fatto con l'uncinetto. Quindi ho ripreso le maglie e ho inserito, in questo caso con due passaggi, il nuovo filo per la nuova lavorazione. Quando ho molta confidenza con la maglia posso anche fare lo stesso procedimento in un unico passaggio. Quindi mi inserisco col ferro dentro alla maglia ed estraggo la nuova maglia con il nuovo filo. Ripeto la sequenza, quindi mi inserisco nella maglia ritorta, passo il filo sopra il ferro e lo porto fuori sotto forma di maglia. Per fare questa lavorazione conviene avere queste maglie abbastanza morbide. Questo è sicuramente il metodo più veloce. Ecco che anche adesso ho ripreso le maglie. Ora posso girare il mio ferro e iniziare la nuova lavorazione. Ecco, ho lavorato due ferri. Dopo aver ripreso le maglie, dopo aver ripreso le maglie, come vedete, anche se io ho ripreso la metà dei ferri che ho lavorato nel mio campione, quindi ho ripreso le maglie, quindi ho ripreso le maglie, diciamo, a maglie alterne, ho comunque una larghezza proporzionata. Qua forse avrei potuto ripreso le maglie in più, per farlo un po' più quadrato. Adesso non sono stata a contare, sinceramente. Comunque si vede che è proporzionato. Proviamo a fare così. Ecco, infatti, così sarebbe stato più proporzionato. E questa tecnica serve a riprendere le maglie durante, per sagomare magari un accessorio, come possono essere delle calze, oppure se vogliamo fare un patchwork, quindi dei pezzetti, inserendo subito, riprendendo subito le maglie senza doverle cucire insieme in un secondo momento, quindi lavorando subito il mio quadratino da attaccare al primo senza fare tanti quadratini staccati e cucirli poi dopo all'ultimo. Spero che questo video vi sia servito e vi sia piaciuto. Se avete delle domande o delle richieste lasciate un commento. Per restare sempre aggiornati sulle attività del canale, iscrivetevi e attivate la campanella. Vi auguro buoni progetti. Al prossimo video!